Il primo esercizio, scusate la voce ma sono un po' raffreddato, dimostrare che se un quadrato è equivalente a un poligono regolare, equivalente sappiamo che vuol dire che entrambe le figure hanno la stessa superficie. Il suo lato, cioè il lato del quadrato, è medio proporzionale fra il perimetro e la metà dell'apotema del poligono. Quindi noi abbiamo per ipotesi che la superficie del poligono SR, abbiamo dato il valore di R a questa superficie, e ST, abbiamo dato il valore di T alla superficie del poligono, sono equivalenti. Chiameremo questo SR, ST, visto che sono equivalenti, con la lettera S. Noi dobbiamo dimostrare che il lato del quadrato è medio proporzionale tra il perimetro del poligono e la metà della sua apotema. Allora, vediamo la dimostrazione. Inscriviamo innanzitutto il poligono in una circonferenza. Sappiamo che ogni poligono regolare è inscrittibile e circoscrittibile ad una circonferenza. Poi il centro del poligono regolare si identifica con il centro della circonferenza, uniamo il centro, che possiamo anche chiamare O, con i vari estremi del lato del poligono. Vedete che noi cominciamo ad avere tanti piccoli triangoli, ad esempio il triangolo GOF, FOE, e sono tutti triangoli uguali. Eguali per diverse ragioni, potrebbe essere per il terzo criterio di eguaglianza dei triangoli, oppure anche solo per il primo criterio di eguaglianza dei triangoli. Terzo criterio di eguaglianza perché voi capite che i lati di questi triangoli corrispondono ai raggi della circonferenza in cui è iscritto il poligono. Quindi i lati di questi triangoli isosceli sono uguali. Poi sappiamo anche che sono uguali i lati, essendo un poligono regolare, quindi GF uguale FE uguale EL uguale LI eccetera eccetera. Ma a un certo punto potrebbe anche essere per il primo criterio di eguaglianza dei triangoli, perché abbiamo degli angoli al centro che insistono su corde che sono uguali FE uguale FG in ogni modo. Questi triangoli sono tutti uguali. Quindi noi potremmo dire che la superficie di questo poligono è uguale alla somma dei singoli triangoli. E abbiamo questa cosa scritta qui. Vedete? Abbiamo scritto qui. Allora F sarebbe la base per l'altezza che è la potema del poligono fratto 2 perché sappiamo che la superficie di un triangolo si ottiene moltiplicando la base per l'altezza e dividendo per 2. Così abbiamo fatto per tutti gli altri triangoli. Quindi in questo caso abbiamo un esagono. Ci sono 6 triangoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La somma di tutti questi triangoli mi dà la superficie dell'esagono. Ora, se io metto in evidenza l'apotema fratto 2, cioè metà dell'apotema, cosa viene fuori? Viene fuori che abbiamo A mezzi, aperta tonda, F più GF più GH più HI più IL più LE. Che cos'è tutta questa somma? Non è altro che il perimetro dell'esagono. Per cui noi possiamo scrivere liberamente che il perimetro dell'esagono moltiplicato metà apotema è sostanzialmente la superficie dell'esagono. Ma la superficie dell'esagono noi sappiamo che è uguale alla superficie del quadrato, cioè AL per L. La superficie del quadrato si ottiene moltiplicando il lato per se stesso, cioè il lato al quadrato. Ora, in una proporzione sappiamo che il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi, per cui PA mezzi uguale L2 noi possiamo anche scriverlo in questo modo, mettendo L come medio proporzionale e ponendo il perimetro e metà dell'apotema come estremi. Quindi questa eguaglianza possiamo scrivere in modo proporzionale in questo modo. Perimetro sta alla perimetro dell'esagono, quindi questa figura inscritta in questo cerchio. Sta al lato del quadrato come il lato del quadrato sta a metà dell'apotema ed è quello che volevamo dimostrare ed è questo infatti. Il teorema è stato dimostrato. Quindi passiamo dunque al secondo problema. Dimostrare che se un quadrato è equivalente a un trapezio, il suo lato è medio proporzionale fra l'altezza e la semisomma delle basi. Allora abbiamo un trapezio ABCD, come vedete sempre una costruzione di un trapezio non particolare, quindi non ricadiamo nel... non che non si possa fare, si può benissimo fare, non ricadiamo né nel trapezio rettangolo né nel trapezio isoscele. Se il problema non lo specifica cerchiamo sempre di ricadere su un trapezio scaleno. E abbiamo un quadrato, SS1, l'ipotesi dice guarda che S è equivalente a S1. La superficie, cioè del trapezio, è uguale alla superficie del quadrato. Cosa dobbiamo dimostrare? Che il lato del quadrato è medio proporzionale tra l'altezza del trapezio e la metà della somma delle basi. Qui abbiamo messo H, l'altezza, B e B con 1 la base minore e la base maggiore del trapezio e L il lato del quadrato. Per cui possiamo così scrivere H sta ad L come L sta a B più B con 1 fratto 2. Allora, è un torema che abbiamo già visto, però lo rivediamo ex novo. Proviamo ad allungare ad i, quindi sulla stessa retta su cui giace ad i, adiacente ad ad i con un prolungamento tale per cui questo prolungamento di e sia uguale a bc, tracciamo un triangolo. Quindi abbiamo ad più di e che è uguale a bc, nel punto e tracciamo un segmento che unisca e con b. Cosa vogliamo dimostrare? Dimostrare che questo triangolo che si viene a formare a b e è equivalente al trapezio a b c d attraverso la scomposizione. Cioè, voi capite che a b o d è in comune a entrambi, sia al trapezio che al triangolo. A noi basta dimostrare che b o c è uguale a b o d e e a questo punto, senza dubbio, possiamo dire che trapezio che ci è stato dato dall'enunciato del problema e triangolo che abbiamo costruito sono equivalenti. Sono equivalenti questi due triangoli, b o c e o d e? Sì, perché abbiamo innanzitutto, abbiamo di tutta dei dati insomma più, perché abbiamo qui un angolo opposto al ver, c'è uno c o b opposto a d o e, poi abbiamo bc che è uguale a d e per costruzione, poi abbiamo l'angolo in c che è uguale all'angolo in d perché abbiamo una trasversale c d che taglia le due parallele b c e a e, quindi sono angoli alterni interni. La stessa cosa vale per c b e e o e d. Anche lì abbiamo due angoli alterni interni determinati dalle parallele a e b c tagliate dalla trasversale b e per cui per il secondo criterio d'eguaglianza, cioè abbiamo un lato e i due angoli, no? Quindi due angoli e lato compreso uguali, abbiamo visto che c'è un angolo in più, questi due triangoli sono uguali. Quindi cosa abbiamo a questo punto? Con uguali superfici equivalenti? Quadrato, trapezio, triangolo. E quello scritto ab e equivalente a dbcd, equivalente a fghi e tutto questo è che cosa è uguale? Al per l che è il lato del quadrato moltiplicato per se stesso che vi dà la superficie. Allora, come troviamo la superficie del triangolo che abbiamo costruito? A, b e base a e per altezza hd diviso 2, quindi b più b con 1 ed è qui, scritto qui, per altezza hd diviso 2. Perciò noi possiamo scrivere questa eguaglianza in una forma proporzionale. L al quadrato diventa il medio proporzionale di questa proporzione, h e b più b con 1 fratto 2 gli estremi. Io posso scrivere che h, l'altezza del triangolo che è poi altezza del trapezio, sta al lato del quadrato come il lato del quadrato sta alla somma delle basi del trapezio, b più b con 1 fratto 2, ed è quello che noi volevamo dimostrare. Eccolo qua. Andiamo al prossimo. Dimostrare che le diagonali di un trapezio si dividono in parti proporzionali fra loro e proporzionali alle basi. Quindi io ho un trapezio abcd, come al solito insisto sul fatto di non costruire dei trapezzi particolari a meno che vengano richiesti direttamente dall'enunciato, quindi ho nuovamente costruito un trapezio scaleno, non un trapezio isoscele, non un trapezio rettangolo. E poi la tesi cos'è? Beh, a o sta a do c come di o sta a do b come ad sta abc. Come lo dimostro? Valutando i due triangoli b o c e a o d che sono simili per il primo criterio di similitudine. E abbiamo anche qui dei dati a Iosa, perché non soltanto possiamo dimostrare direttamente l'eguaglianza di due angoli, ma addirittura di tre angoli. Voi capite che il terzo angolo è automatico, se due angoli sono uguali, in automatico è uguale anche il terzo, 180 meno gli altri due. Però qui addirittura l'abbiamo in automatico, nel senso che i due angoli qui sono opposti al vertice, no? B o c e a o d sono opposti al vertice. Ma poi gli altri angoli, l'angolo in b ad esempio e l'angolo in d, così come l'angolo in c e l'angolo in a, sono uguali, considerando la parallela bc e le due parallele bc e ad, tagliate rispettivamente dalle trasversali, bd e c a, sono alterni interni, no? Vediamone solo uno, b, t, a e alterno interno a c, b, d, considerando le due parallele bc e ad, tagliate dal traversale bd. Insomma, i due triangoli sono simili. Se i due triangoli sono simili, è evidente che sono in proporzione i lati di questi triangoli. Quindi io potrò tranquillamente dire che a o sta ad o c, come o d sta ad o b, come ad i sta a b c, ma effettivamente era quello che volevo dimostrare. Vedete? Risulta perciò ed è quello che si voleva dimostrare nella tesi, come voleva dimostrare. Andiamo al quarto. Sono dati tre segmenti A, B, C. Quando io capisco che c'è chi è preparato e che quindi non ha bisogno di queste spiegazioni. Ma io mi rivolgo con questi problemi a chi sta iniziando a fare i primi passi, a compiere i primi passi. Mi ricordo le difficoltà di quando ero io ragazzino. Che vuol dire tre segmenti A, B, C? Sembra che anche queste siano delle incognite. No, non sono delle incognite. È come se il problema avesse detto, guarda, ti sono stati dati tre segmenti. Uno vale 5, l'altro vale 10, l'altro vale 22. Quindi questi sono dei dati, dei dati che si pongono nell'ipotesi. Sono dati tra segmenti A, B, C, di cui conosciamo le lunghezze. Ma queste lunghezze sono tali per cui anche se questi segmenti cambiano, i rapporti valgono ugualmente. Quindi abbiamo tre segmenti. Dobbiamo trovare altri due, A' e B', tali per cui A sta B come A' sta B' e A' sta C come C sta B'. Come faccio? Allora, non è proprio semplice questo problema, però si può risolvere. Costruiamo un triangolo rettangolo. A, B, C. Lo costruiamo noi. Uno si potrebbe dire perché è proprio triangolo rettangolo. Ma perché è il modo per individuare questi due segmenti che sono richiesti dalla tesi. Poi magari ci potrebbero anche essere altre soluzioni. Io ho individuato come soluzione questa possibilità. Un triangolo rettangolo per cui la proiezione di un cateto A, B sull'ipotenusa equivale ad A. Vedete? E A ce l'abbiamo. La proiezione dell'altro cateto B, C sull'ipotenusa vale B e B ce l'abbiamo. Quindi su un foglio, se noi avessimo dei dati ben precisi, A uguale a 3, B uguale a 7, noi dovremmo costruire un triangolo rettangolo per cui la proiezione di un cateto sia uguale a 3 e la proiezione dell'altro sia uguale a 7. Per non avere queste difficoltà di costruzione abbiamo semplicemente individuato delle lettere A e B. Poi io traccio una parallela all'ipotenusa AC che è questa, vedete? Tale per cui tracciata l'altezza relativa all'ipotenusa di questo triangolo ABC, BH, la distanza dal vertice B all'intersezione S sia uguale a C. Ripeto dunque, A la proiezione di AB sull'ipotenusa, B la proiezione di BC sull'ipotenusa, C l'altezza di questo nuovo triangolo determinato da questa parallela tracciata in modo tale per cui l'intersezione con l'altezza BH, che poi sarà l'altezza anche di questo nuovo triangolo rettangolo, sia C. Quindi noi abbiamo ABC. Di questo nuovo triangolo rettangolo che si viene a costruire, bene, diamo il valore di A1 alla proiezione del cateto sulla nuova ipotenusa e B1 la proiezione dell'altro cateto sulla nuova ipotenusa. Se noi facciamo attenzione, questo nuovo triangolo che è stato determinato da questa parallela è un triangolo rettangolo simile ad ABC. Perché? Ma perché hanno evidentemente l'angolo retto in comune, ma poi gli altri due angoli sono rispettivamente uguali perché corrispondenti e la corrispondenza è data da queste due parallele AC e la parallela che ho costruito io. Abbiamo due triangoli dunque simili. Ma questa similitudine si estende anche ai due triangoli rettangoli corrispondenti. Cioè vedete che abbiamo un triangolo rettangolo qui determinato da A1 e C, l'altro triangolo rettangolo determinato da A e da tutta l'altezza BH. Questi due triangoli sono simili, non c'è dubbio. Abbiamo, vedete, un angolo retto, un altro angolo in comune. Questi due abbiamo detto che sono corrispondenti. Stessa cosa vale dall'altra parte. C'è il triangolo rettangolo che ha come dimensioni B1 e C e il triangolo rettangolo che ha come dimensioni B e BH. Per cui non possiamo dire che cosa? Che A sta da primo come BH sta a C. Possiamo dire che B sta a B' come BH sta a C. BH e C quindi sono in comune e a questo punto, per la proprietà transitiva, arriviamo a dire che A sta da B come a primo sta a B primo. Tutti questi passaggi io qui non li ho fatti perché sono abbastanza evidenti. Io ho scritto semplicemente due triangoli e rettangoli sono simili per il primo criterio di similitudine di triangoli, avendo l'angolo retto in comune due angoli alla base rispettivamente uguali perché corrispondenti per costruzione. Perciò A sta a B qua primo e primo. Per arrivare a questo bisognerebbe però prima individuare la similitudine del primo triangolo rettangolo, l'altra similitudine dell'altro triangolo rettangolo più grande, così dall'altra parte. Poi vedere la parte in comune, cioè BH che sta a C' annullarla e unificare la proporzione A sta a B come a primo sta a B primo. Quindi la prima parte noi l'abbiamo dimostrata. Ora dobbiamo dimostrare la seconda parte, cioè dobbiamo dimostrare che A primo sta a C come C sta a B primo. Prendiamo in esame il triangolo rettangolo più piccolo, quello che abbiamo costruito e consideriamo il secondo terremo di Euclide. Cosa dice il secondo terremo di Euclide? Che l'altezza relativa all'ipotenusa è medio proporzionale con le due rispettive proiezioni dei cateti sull'ipotenusa. Quindi io posso, il rapporto sarebbe molto semplice, A primo per B primo uguale C al quadrato, che poi diventa A primo sta a C come C sta a B primo. E abbiamo quindi dimostrato anche la seconda parte della tesi. La difficoltà di questo problema qual è? quella di avere l'intuizione di costruire questo triangolo rettangolo e dare dei valori ben precisi. Come si può arrivare a questo? Guardate, io do dei suggerimenti. Questa richiesta, perché ho sempre detto di usare la tesi come mezzo per trovare la strada migliore da percorrere per la dimostrazione. Qui c'è un medio proporzionale, C e A primo B primo. Quindi viene voglia di pensare a un Euclide. O C è un cateto e A primo diventa la sua proiezione B primo tutta l'ipotenusa, oppure nel secondo terreno di Euclide C è l'altezza relativa all'ipotenusa e A primo e B primo sono le due proiezioni dei cateti sull'ipotenusa. Sembra più semplice la seconda soluzione. Anche perché qui nell'altra richiesta mi dice guarda che A deve stare a B come a primo sta B primo. Ecco perché viene voglia di costruire un triangolo rettangolo che ci dà molte possibilità prima di andare a costruire dei poligoni, dei triangoli particolari, triangoli sociali. Il triangolo rettangolo è quello che ci dà maggiore possibilità perché c'è di mezzo il teorema di Pitagora, il primo teorema di Euclide, il secondo teorema di Euclide. Insomma c'è l'angolo retto che ci permette di individuare le similitudini e le eguaglianze con maggiore facilità. Quindi è sempre opportuno utilizzare come prima ipotesi per la soluzione di certi problemi la figura del triangolo rettangolo e qui io ho utilizzato proprio questo sistema. Andiamo al prossimo che è il numero 5. Trovare due segmenti conoscendo la loro somma e il segmento medio proporzionale fra uno dei segmenti e la loro somma. Dunque io continuo ad insistere che è importante una cosa. Il triangolo rettangolo appena detto è quella figura che maggiormente può dare una risposta a enunciati di questo genere. Quando parliamo di un segmento medio proporzionale, qui si sta dicendo trova due segmenti, io conosco la somma di questi due segmenti e conosco un medio proporzionale tra questi due segmenti. Quindi io ho come ipotesi questi due segmenti che come tesi di per sé non conosco però ne conosco la somma. AH più HC, per ora teniamo semplicemente questo HC, non abbiamo ancora costruito la figura. Noi sappiamo che loro insomma è B. Si sarebbe potuto mettere tranquillamente X più Y. Vabbè, B. E sappiamo anche che c'è un segmento medio proporzionale e conosciamo questo segmento medio proporzionale perché B, la somma la conosciamo e conosciamo questo segmento medio proporzionale tra uno di questi due segmenti che dobbiamo trovare e la somma di questi due segmenti. Ciò è, io ho messo AC, ma la somma abbiamo detto uguale a B. Io ho già messo delle lettere che si riferiscono alla figura che andremo a costruire perché semplicemente, ripeto, qui si sarebbe potuto scrivere X più Y uguale a B e poi scrivere X sta ad A come A sta a B. Ora, perché sempre triangolo rettangolo? Insisto perché sul triangolo rettangolo abbiamo dei rapporti importanti che ci sono definiti dal primo teorema di Euclide, dal secondo teorema di Euclide e dal teorema di Pitagora perché è facile trovare delle similitudini triangolo ABC è simile al triangolo ABH avendo un angolo di 90 e angolo A in comune stessa cosa vale per BHC quindi abbiamo possibilità varie per imbastire delle proporzioni dei collegamenti ora la somma di due segmenti potrebbe essere benissimo l'ipotenusa e questi due segmenti potrebbero essere la proiezione dei cateti sull'ipotenusa guardate che questo problema potrebbe essere risolto in tante maniere quindi io considero questi due segmenti che si devono trovare AH e HC le due proiezioni dei cateti sull'ipotenusa poi considero A l'altro segmento che mi viene dato come un cateto ma potrebbe anche essere applicato questo A ABH ripeto ci sono diversi modi per risolvere questo problema io qui lo risolto in questo modo allora i due segmenti sono le due proiezioni dei cateti sull'ipotenusa di cui noi conosciamo la somma poi conosciamo anche la lunghezza di un cateto AB che è uguale ad A allora noi sappiamo che in un triangolo rettangolo per il primo termineo di Euclide un cateto no in questo caso prendiamo il cateto AB è medio proporzionale tra la sua proiezione sull'ipotenusa H è tutta l'ipotenusa quindi io posso scrivere questa proporzione A è medio proporzionale tra H e AC e AC noi lo conosciamo perché abbiamo detto che la somma di H più HC è B ora diamo il valore ad H di X ma avremmo potuto anche tenerlo semplicemente così a H io ci ho messo X perché X normalmente è la lettera che viene predicata di un'incognita e ho sostituito X sta da come A al posto di AC ho messo B ripeto al posto di X avrei potuto tenere H il prodotto il prodotto dei medi uguale al prodotto degli estremi quindi BX uguale ad A2 X uguale a 2 fratto B abbiamo detto che X è uguale ad H quindi abbiamo trovato AH H lo conosciamo ricordatevi sempre che A2 A2 e B sono lettere ma le lettere non sono incognite sono dei dati avendo AH e avendo la somma di AH più HC basta per trovare HC far che cosa? scrivere B che è la somma meno A2 fratto B e abbiamo trovato anche HC l'altro segmento continuo ad insistere abbiate pazienza è forse la terza la quarta volta che lo dico tutte le volte che vi si chiedono dei segmenti tenete in considerazione il triangolo rettangolo che è quello che ha maggiore possibilità di dare una risposta vista tutte le proporzioni in cui sono legati i cateti l'ipotenusa le proiezioni dei cateti sull'ipotenusa e l'altezza relativa all'ipotenusa e andiamo quindi al sesto problema dimostrare che i punti medi dei lati non paralleli di un trapezio e i punti medi delle diagonali sono allineati allora di nuovo un trapezio di nuovo non un trapezio particolare rettangolo o isoscele ma un trapezio scaleno cosa dobbiamo dimostrare visto e dato per scontato che ci sono dei punti qui E F G H che noi abbiamo già definito in partenza come punti medi punti medi del lato PA per cui BE è uguale ad A del lato CD per cui CH è uguale ad HD della diagonale CA per cui AF è uguale ad FC della diagonale BD per cui BG è uguale a GD cosa devo dimostrare che tutti questi quattro punti si trovano a giacere sulla stessa retta la retta è H allora la prima cosa che faccio è tracciare una retta che unisca E con H cioè i due punti medi dei due lati obliqui per il teorema inverso a quello di Talete che dice che se una retta divide due lati di un triangolo in segmenti proporzionali la retta è parallela al terzo lato qui i segmenti sono proporzionali e c'è una proporzione ben precisa uguale a 1 B E è uguale abbiamo detto ad E A e questa proporzione è uguale a 1 perché B E facciamo finta che il lato sia uguale a centimetri 6 B E è uguale a 3 e A uguale a 3 3 diviso 3 è uguale a 1 se CD invece di essere 6 fosse 8 centimetri la metà è 4 quindi CH 4 HD 4 4 diviso 4 sempre 1 i segmenti sono proporzionali no? sono proporzionali e la proporzione è 1 perciò la proporzione di questi segmenti è uguale perciò la retta EH è parallela ad AD quindi noi abbiamo a questo punto un fascio di rette BC e H costruita da noi AD intersecata da varie secanti abbiamo visto BA abbiamo visto CD adesso vediamo CA e BD cioè le due diagonali dunque anche queste due diagonali secano le parallele e la parallele e H taglia queste due diagonali in F in G ora per il teorema di Talete non quell'inverso ma quello diretto che dice che su un fascio di rette parallele tagliato da rette trasversali il rapporto tra i due segmenti determinati sulla trasversale è uguale al rapporto dei segmenti corrispondenti determinati sull'altra trasversale io posso dire senza dubbio che CF sta ad FA ad esempio come BE sta ad EA il rapporto è proporzionale ma abbiamo visto che il rapporto di BE EA è 1 quindi anche il rapporto di CF FA e il rapporto di BG e GD è 1 quindi vuol dire che questa parallela che passa attraverso i punti medi dei lati obliqui passa anche attraverso i punti medi delle diagonali del trapezio F e G sono i punti medi abbiamo detto e da quei punti medi passa la parallela EA e l'abbiamo quindi dimostrato quindi in questo problema prima bisogna partire dal teorema inverso a quello di Euclide poi applicare il teorema di Euclide in modo diretto passiamo al problema numero 7 sul triangolo rettangolo ABC rettangolo in A si faccia cadere l'altezza relativa all'ipotenusa AD che divide l'ipotenusa in due segmenti DC uguale a C e DB uguale a B si tracci poi una parallela all'ipotenusa che taglia C in F e AB in E in E AF uguale D AE uguale A quindi qui i dati li abbiamo tutti no? abbiamo i dati delle proiezioni dei cateti sull'ipotenusa C e B e quindi abbiamo anche i dati dell'ipotenusa abbiamo una parallela all'ipotenusa abbiamo le lunghezze dei cateti del nuovo triangolo rettangolo che si viene a formare con questa parallela cioè A F E quel che ci chiede il problema è dimostrare determinati rapporti anzi per la precisione dimostrare che D al quadrato sta ad A al quadrato come C sta D e infatti l'abbiamo posto come tesi abbiamo messo come ipotesi che FE è parallela a CB che CB è perpendicolare ad AD avremmo dovuto mettere come ipotesi anche che A è un angolo di 90 gradi per il teorema di Talete ma non solo per il teorema di Talete potremmo anche dimostrare la similitudine di questi due triangoli F A E e C A B per il primo criterio di eguaglianza in ogni modo possiamo utilizzare anche teorema di Talete quella cioè dei segmenti proporzionali determinati da rette parallele tagliate da trasversali possiamo scrivere che AF definito con D sta ad AE definito con A come AC sta ad AB voi capite che arriviamo ad una proporzione di questo genere come ho detto anche definendo la similitudine dei due triangoli questo piccolo AFE e quello grande ACB c'è un teorema che dice che se quattro segmenti sono in proporzione sono in proporzione anche i loro quadrati quindi possiamo mettere al quadrato tutti questi dati D al quadrato sta ad A al quadrato come C al quadrato sta D al quadrato a questo punto valutiamo i rapporti che ci sono sul triangolo maggiore cioè ACB e senza ombra di dubbio possiamo dire che il cateto in questo caso AC è medio proporzionale tra la proiezione di se stesso sull'ipotenusa con l'ipotenusa stessa quindi possiamo scrivere che AC medio proporzionale con la proiezione sull'ipotenusa e l'ipotenusa o la proiezione è C e l'ipotenusa è B più C stesso lavoro possiamo farlo con l'altro cateto e scrivere che AB è medio proporzionale tra B la sua proiezione sull'ipotenusa e l'ipotenusa B più C poi i medi il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi AC al quadrato è uguale a C per B più C AB al quadrato è uguale a B per B più C ora proviamo a sostituire questi dati nella 1 cioè ad AC al quadrato sostituiamo C che moltiplica B più C ad AB al quadrato sostituiamo B che moltiplica B più C e abbiamo questa proporzione poi al secondo membro noi possiamo proporre una semplificazione che semplifichiamo per B più C per cui alla fine noi abbiamo la proporzione richiesta cioè D al quadrato sta dal quadrato come effettivamente ci era stato richiesto a volte mi si chiede ma io come faccio ad arrivare a delle conclusioni di questo genere cioè io vedo un triangolo rettangolo vedo che c'è una parallela io continuo ad insistere che su una cosa il triangolo rettangolo ha importanti rapporti quindi se abbiamo un C che mi dà la proiezione di un cateto sull'ipotenusa abbiamo un B che mi dà la proiezione di un cateto sull'ipotenusa più che il teorema di Pitagora che ci interessa fino a un certo punto più che il secondo teorema di Euclide che gioca sull'altezza della lingua l'ipotenusa noi dobbiamo affidarci ad esempio al primo teorema di Euclide che ha come punto di riferimento tutta l'ipotenusa e noi l'abbiamo C più B e la proiezione di un cateto sull'ipotenusa e ce l'abbiamo C un caso viene all'altro perciò diventa evidente che qui bisogna utilizzare il primo teorema di Euclide Poi la tesi ci dice D2 sta ad A2 quindi io devo mettere di mezzo il D e l'A se voglio mettere di mezzo il D e l'A devo mettere di mezzo anche la C e la B in proporzione semplice poi il passaggio di passare di passare tutto al quadrato per cui noi già il primo membro richiesto ce l'abbiamo già di A2 e A2 è AC avendo l'ipotenusa avendo la proiezione di AC sull'ipotenusa siamo a posto utilizziamo il primo teorema di Euclide siamo sempre lì dobbiamo vedere quali dati abbiamo ma in modo particolare qual è il punto di riferimento che ci viene offerto dalla tesi a partire di lì uno dice ma io alla tesi devo arrivare attraverso dimostrazione sì d'accordo ma la tesi mi indica già un percorso da seguire i dati da una parte definiti dall'enunciato e la tesi dall'altra sono i percorsi da seguire per arrivare alla soluzione del problema andiamo al prossimo che è il numero 8 questo è un po' complesso vediamo anche di individuarne un metodo per cercare di risolverlo in una circonferenza è iscritto un triangolo equilatero e già qui io direi di fare le cose nella maniera più precisa possibile io ho tracciato una circonferenza e poi con il raggio della circonferenza partendo da B ho segnato eventuali punti di intersezione per un eventuale esametro esagono scusate mi confondo letteratura con geometria un esagono regolare per costruire un triangolo regolare che ha una quantità di lati uguali alla metà io unisco i punti saltandone uno in alternanza cioè prendo il punto B poi salto questo punto e prendo il punto A poi salto l'altro punto e prendo il punto C quindi con un'apertura raggio io non soltanto riesco a costruire un esagono ma anche un triangolo equilatero e ho costruito il triangolo equilatero ABC una corda E F taglia i lati AB e VC nei punti medi MN quindi bisogna cercare il punto medio di AB e il punto medio di VC e abbiamo una corda che passa attraverso questi due punti medi e interseca la circonferenza rispettivamente nei punti E e nel punto F pare già evidente che se non finisco di leggere l'enunciato però pare evidente che passando attraverso i punti medi questo segmento F è per teorema parallelo al terzo lato cioè ad AC questo è il teorema di Euclide applicato ai eh il teorema di Tarete applicato ai triangoli dimostrare che il punto N divide F N in media ed estrema ragione cosa vuol dire vuol dire che nel segmento M F M N è la parte aurea cioè la media proporzionale tra tutto il segmento M F e la parte restante M F quindi io nella tesi cosa ho scritto devo dimostrare che M F tutto il segmento sta M N la parte segnata in rosso la parte aurea come M N sta alla parte rimanente N F mentre nell'ipotesi mi sono semplicemente limitato a scrivere che ABC è un quilatero un triangolo equilatero di scritto e che AM uguale MB NC uguale NB ossia M N si trovano esattamente nella parte centrale mediana dei lati rispettivamente AB e BC come vedete io però che sono sempre sospettoso ma non sospettoso perché penso che chi ha presentato o annunciato del problema non l'abbia presentato in modo corretto ma sia io a non capire che cosa ho fatto voglio verificare proprio graficamente se è veramente M N è la parte aurea quindi che cosa ho fatto ho tracciato questo segmento che è esattamente la metà di M F ho tracciato la con apertura qui adesso non l'ho non l'ho segnato pensate che ci sia una T TF ho tracciato la circonferenza ho unito M con T e poi con questa apertura M alla tangenza di questa circonferenza sono venuto giù ed effettivamente io ho trovato l'N effettivamente sotto un profilo grafico M è la parte aurea del segmento M F non c'è dubbio proviamo a dimostrarlo in altro modo innanzitutto consideriamo due corde E F e B C e uno dirà ma perché proprio queste due corde ma F perché su F abbiamo la parte aurea abbiamo tutto il segmento abbiamo tutto quello che ci rimane del segmento tolta la parte aurea quindi F lo si doveva necessariamente considerare questa corda e poi l'altra corda che taglia E F è la BC quindi provo a definire per teorema che rapporto si ha tra i segmenti che si determinano dall'intersezione cioè noi possiamo dire senza ombra di dubbio che EN sta a NC come NB sta a NF cioè due corde che si intersecano all'interno di una cioconferenza hanno determinano dei segmenti dal punto di intersezione tali per cui i segmenti dell'una sono medi proporzionali con i segmenti dell'altra che diventano invece gli estremi vedete che EN N e NF sono gli estremi N NF CN NB gli altri due segmenti che troviamo dopo l'intersezione che si ha nella corda sono i medi su questa equazione noi equazione su questa proporzione dobbiamo lavorarci sopra e vedere tutti i rapporti possibili che possiamo trovare innanzitutto valutiamo questo triangolo B M N è un triangolo equilatero perché è un triangolo equilatero perché abbiamo detto che M N è parallelo ad AC A diventa corrispondente di M C corrispondente di M i due angoli sono uguali il terzo in comune quindi anche questo è un triangolo equilatero con tutte le caratteristiche del triangolo equilatero ma non basta ci sono altre cose di cui bisogna tenere conto valutiamo ad esempio l'altezza di questo triangolo ABC equilatero questa altezza che cade perpendicolarmente in T ma se i due sono simili cade anche perpendicolarmente in H sono oltretutto questi due assi dei segmenti M N E AC OH OT perché noi sappiamo che dal centro di una circonferenza se abbiamo una corda l'asse di questa corda passa attraverso il centro abbiamo dei dati interessanti come ad esempio abbiamo il dato che BN se il triangolo equilatero è uguale a NM ma BN è anche uguale a NC quindi NC uguale a NM qui l'abbiamo scritto CN uguale MN se poi guardiamo questo segmento E F con tutti questi queste intersezioni M H N riusciamo a dire che M F è uguale a N perché ma ci sono tanti sistemi tante vie per dimostrarlo no valutiamo questo 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 lato M N no M N che è il lato del triangolo equilatero abbiamo già visto che BH BH OT passano essendo l'altezza del triangolo equilatero essendo l'asse dei vari segmenti intersecano M N in un punto H che non è soltanto asse ma è perpendicolare altezza e mediana quindi MH uguale HN ma poi possiamo senza dubbio affermare che anche è H uguale ad HF perché è una corda sostanzialmente dove OH perviene in modo perpendicolare quindi la divide a metà quindi io so che MH è uguale a HN so che EH è uguale ad HF quindi per diciamo somma di segmenti uguali senza ombra di dubbio possiamo dire che EN è uguale ad EH più HN MF sono uguali MF uguale a HF più MN tutti i segmenti che abbiamo dimestrato uguali e quindi da questo punto lo possiamo anche vedere per differenza o per somma di segmenti uguali sia N uguale a MF a questo punto io devo valutare tutto quello che ho ottenuto cioè sono partito se voi vi ricordate applicando il teorema sull'intersezione di due corde dove vengono individuate dei segmenti proporzionali e poi e questo è l'uno poi ho individuato il 2 il 3 il 4 nelle successive dimostrazioni adesso proviamo a trascrivere di nuovo questa proporzione facendo le dovute sostituzioni invece di EN scriviamo MF eccolo qui perché abbiamo detto MN uguale MF invece di CN mettiamo MN ed ecco qua mettiamo MN invece di NB dalla seconda mettiamo MN e di nuovo mettiamo MN NF rimane così com'è MF sta MN come MN sta NF che cos'è questo? quello che volevamo dimostrare questo MF sta MN come MN sta NF ed MN non è altro che la parte aurea del segmento che definiamo MF come abbiamo detto fin dall'inizio quindi tutto il segmento MF sta ad MN parte aurea come MN parte aurea sta a quello che rimane del segmento NF così abbiamo dimostrato andiamo al problema numero 9 dimostrare che se da un punto di un lato di un angolo acuto si conduce la perpendicolare all'altro lato e dal piede di questa la perpendicolare al primo lato e così di seguito le distanze del vertice dai piedi delle perpendicolari sono in proporzione continua quindi io ho un punto il punto C traccio la perpendicolare ad OD quindi qui CD cade perpendicolarmente ad OD parto da questo piede di questa perpendicolare e traccio una perpendicolare all'altro lato e così di seguito da B traccio di nuovo una perpendicolare all'altro lato da E una perpendicolare al primo lato da A una perpendicolare al primo lato questi segmenti che si vengono a formare dovrebbero essere in proporzione ma è evidente che sono in proporzione perché vedete E F A E B D C sono tutte perpendicolari ad OD se sono perpendicolari ad OD sono parallele questi segmenti tra di loro e per il teorema di Talete ecco che abbiamo F A E B E D C ma la stessa cosa si potrebbe dire per D B e per E A parallele con due secanti la prima secante è OD la seconda secante è OC sostanzialmente i due lati dell'angolo quindi abbiamo dei segmenti a questo punto OF FE E D in proporzione continua in riferimento agli altri segmenti che vengono ad essere staccati sull'altro lato quindi io posso dire che vediamo la tesi OF sta FE sta ED come OA sta DAB sta BC è sostanzialmente l'applicazione del teorema di Talete e qui passiamo al problema numero 10 dimostrare che le diagonale di un pentagono si dividono scambievolmente in media ed estrema ragione dopo aver costruito un pentagono ho tracciato due diagonali BE e AC ora prendiamo in considerazione una di queste due diagonali avremmo potuto prendere in considerazione anche l'altra BE è chiaro che quello che dimostriamo per una diagonale vale anche per l'altra ora AC è tagliata da BE in F e quindi secondo la richiesta dell'enunciato CF dovrebbe essere la parte aurea del segmento CA cosa vuol dire? vuol dire che tutto il segmento AC sta ad FC come FC sta alla parte rimanente cioè ad AF perché sappiamo che la parte aurea è appunto il medio proporzionale tra tutto il segmento e la parte rimanente io ho ritenuto importante dare dei valori agli angoli perché quali sono i dati su cui io posso lavorare di fronte ad un pentagono regolare inscrittibile dunque in una circonferenza sul fatto che abbiamo tutti i lati uguali sul fatto che è inscrittibile in una circonferenza e sul fatto dunque che tutti gli angoli alla circonferenza che insistono su un lato del pentagono sono uguali perché insistono sullo stesso arco quindi io ho provato a dare dei valori no? ad esempio B poi magari alcuni di questi valori non serviranno ma incomincio intanto a vederne i vari rapporti ad esempio B CA insiste su BA il lato di un pentagono messo X lo stesso lo stesso CDD lo stesso per EBD lo stesso per ABE insistono su tutti su angoli alla circonferenza che insistono su un lato del pentagono poi ho preso ad esempio in esame l'angolo CAE che insiste su un arco che è definito da due lati del pentagono e quindi il doppio e ho messo due X valutando poi il triangolo ABE cioè sono arrivato ad un certo punto che sono riuscito a trovare il valore interno delle X di un triangolo cioè intendo dire BCF ad esempio io avevo un X da una parte e un X dall'altra però il terzo angolo non ne conoscevo la dimensione lo stesso vale per AFE non ne conoscevo la dimensione se invece io prendo in esame il triangolo BAE ho X da una parte X dall'altra 2X più X dall'altra ancora fa 3X quindi vuol dire che le X il valore X interno ad un questo valore X che abbiamo dato e che sommando dovrebbe dare 180 gradi corrisponde a 3, 4, 5 X cioè non so se mi sono spiegato ABE a tre angoli uno vale X l'altro vale X l'altro vale 3X che vuol dire vuol dire che addirittura io riesco a definire i gradi di questo X se il problema mi avesse chiesto dimmi quali sono esattamente i gradi dell'apertura di ogni angolo io potevo definirlo io qui ho detto ho scritto il triangolo ABS evince che la somma interna degli angoli 5X con un valore dunque di 36 gradi per la X cioè 180 diviso 5 mi dà 36 gradi ma questo non ci interessa ci interessa un'altra cosa che secondo me è molto più importante che se la somma interna dunque è 5X se io prendo in esame il triangolo AFE ebbene ebbene l'angolo AFE è 2X perché se il primo è 2X e l'altro è X per arrivare a 5X ho bisogno del 2X e vedete che corrisponde anche dall'altra parte X 2X questo sarà 2X ed effettivamente 2X e 2X sono opposti al vertice sono angoli uguali è importante questa cosa è fondamentale perché? perché io scopro che B C F è un triangolo isoscere quindi la parte aurea che noi consideravamo C F non è altro che il lato del pentagono C F uguale C B uguale B A quindi trovare questo rapporto perché questo C F buttato lì era un po' difficile sarebbe stato un po' difficile trovare dei riferimenti per una dimostrazione così geometrica una dimostrazione pratica io l'avevo anche qui attuata una una dimostrazione grafica vedete che io qui al alla alla fine del 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 segmento CA io ho tracciato una perpendicolare uguale alla metà del segmento CA ho tracciato la circonferenza con questo raggio ho unito il centro con C no? e poi da C ho puntato il raggio e con apertura nell'intersezione ho son calato ed effettivamente effettivamente C F è la parte aurea quindi nella costruzione grafica io la verifica l'avevo già realizzata però dovevo anche dare una dimostrazione di carattere geometrico adesso sono arrivato ad un punto importante cioè ho dimostrato in fondo che questo C F non è altro che il lato del pentagono adesso vediamo visto che stiamo parlando di questo lato del pentagono se questo lato può diventare il medio proporzionale in una proporzione tra ad esempio triangoli io ad esempio prendo in considerazione B C A e B F A sono due triangoli simili per il primo criterio di similitudine perché ma guardiamo un momentino B F A un angolo è x l'altro angolo è x e l'altro angolo sarà 3x prendiamo l'altro triangolo B C A un angolo è x l'altro angolo è x e l'altro angolo è 3x quindi gli angoli sono uguali i due triangoli sono simili i lati sono in proporzione cosa mi interessa che sia il medio proporzionale beh mi interessa che sia BA medio proporzionale effettivamente BA è sia lato del triangolo BAF sia lato del triangolo ABC allora che faccio ecco questa è beh no possiamo usare questa proporzione metto FC al centro ma che cos'è FC non è altro che AB perché abbiamo detto che FC è uguale a CB ma CB è uguale ad AB quindi AB al centro quindi io posso dire che CA il lato del triangolo più grande sta a BA il lato del triangolo più piccolo come BA che è lato anche del triangolo più grande sta ad AF ed eccolo qui prima io devo limitarmi a scrivere AB no AC sta ad AB come AB sta ad AF ma poi noi abbiamo dimostrato che BC e CF sono la stessa cosa e BC è uguale a CF è uguale ad AB per cui posso passare nella sostituzione a quello che la tesi mi aveva richiesto e ho dimostrato quindi quello che mi era proposto di dimostrare e che avevo indicato nella tesi andiamo all'undicesimo in un triangolo rettangolo e noi abbiamo costruito il triangolo rettangolo ABC e scrivere un rettangolo ricordando naturalmente tutte le proprietà del rettangolo no il rettangolo a tutti gli angoli retti il rettangolo ha le due diagonali uguali il rettangolo ha i due lati opposti uguali avente un vertice sull'ipotenusa e il vertice dell'angolo retto in comune quindi il triangolo rettangolo costruito CAB deve avere un angolo il suo angolo retto in comune con l'angolo retto del rettangolo mentre l'angolo opposto deve avere il vertice sull'ipotenusa dimostrare che il rettangolo avente per lati le parti in cui resta divida l'ipotenusa è equivalente alla somma dei due rettangoli avente per lati le parti in cui restano divisi i cateti io qui invece di usare le lettere C E E B B G G A A F F F C ho messo delle lettere minuscole perché ci sono dei calcoli da sviluppare che proprio così da un punto di vista puramente tecnico troverebbero delle lungagidi delle difficoltà se indico i segmenti alla maniera tradizionale quindi vedete che io qui ho messo AF l'ho messo uguale a DA no FC AB CE AC EB AD BG AD E AG AF ricordando evidentemente che anche FE è uguale a F anche GE è uguale a DA perché sono lati opposti allora sostanzialmente cosa ci dice l'enunciato il rettangolo che ha per dimensioni C e D ha una superficie identica ai due rettangoli alla somma dei due rettangoli che hanno rispettivamente come dimensioni A e B F ed E quindi noi l'abbiamo scritto in questo modo C D qui sarebbe stato più giusto scrivere equivalente quindi tre righette vabbè teniamola anche così C D quindi il rettangolo formato dalle dimensioni dell'ipotenusa determinate da questo vertice del rettangolo è equivalente ad AB più E F sostanzialmente quindi devo arrivare a questa formula allora siamo in un triangolo rettangolo ci troviamo altri triangoli rettangoli C F E E G B mi pare evidente no? perché abbiamo questo rettangolo che è stato costruito in modo tale che un angolo un suo angolo combaciasse con quello del triangolo rettangolo l'angolo retto del triangolo rettangolo per cui anche in C abbiamo un angolo retto anche in F abbiamo un angolo retto perciò altri due triangoli con angolo retto allora proviamo ad applicare il teorema di Pitagora al triangolo più grande al primo e che cosa possiamo dire? e beh possiamo dire che il quadrato dell'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati dei due cateti quindi C più D al quadrato equivalente ad A più B al quadrato più E più F al quadrato e qui dobbiamo svolgere no? è un binomio quindi voi sapete che per svolgere C più D dobbiamo mettere il quadrato del primo termine più il quadrato del secondo termine più il doppio prodotto del primo per il secondo quindi C2 di 2 2CD stessa cosa qui A2B2 2AB E2 F2 2F ora valutiamo i due triangoli che abbiamo qui sotto che sono anch'essi rettangoli e applichiamo anche su questi il teorema di Pitagora per cui C2 equivalente a B2 più F2 vedete E D2 equivalente ad A2 più E2 fatto questo successivo passo io cosa devo fare sostituisco al C2 e al D2 quello che ho trovato qui cioè al posto di C2 metto B2 più F2 al posto di 2 metto A2 più E2 e ho questa nuova eguaglianza poi porto avanti le semplificazioni perciò se devo semplificare voi capite F2 si semplifica ad esempio con F2 E2 si semplifica con E2 B2 si semplifica con B2 cosa rimane? ecco rimane una una eguaglianza molto molto semplice nel senso che abbiamo un 2 CD ci rimane uguale a 2AB più 2F io poi semplifico ulteriormente il tutto dividendo per 2 e mi rimane CD uguale AB più F qui c'è un più che si dovrebbe cancellare ma la sostanza è poi questa vedete la tesi era appunto CD uguale AB più F abbiamo quindi dimostrato anche questo problema andiamo al dodicesimo dimostrare che i raggi delle circonferenze circoscritte a due triangoli simili stanno fra loro come due lati omologhi noi abbiamo questi due triangoli simili ABC e A' B' C' sappiamo che attraverso tre punti può passare una circonferenza perciò inscriviamo questi due triangoli in due circonferenze e lo abbiamo fatto cosa dobbiamo dimostrare che AC un lato potrebbe anche essere AB potrebbe anche essere BC AC sta ad A' C' come OD cioè il raggio della prima circonferenza sta ad O' D' cioè il raggio della seconda circonferenza allora vediamo di innanzitutto partendo da un angolo qualsiasi possiamo partire ad esempio dall'angolo A di tracciare il diametro sia per la prima figura che per la seconda figura per cui nella prima figura ora abbiamo AD nella seconda figura abbiamo come diametro A' D' uniamo poi D con C e D' con C' non c'è dubbio che l'angolo in C e l'angolo in C' sono angoli rettangoli perché angoli retti perché insistono sul diametro di una circonferenza sono angoli retti non basta anche D' è uguale a D' perché perché D' insiste su A' C' come D' insiste su A' C' ma su A' C' e su A' C' insistono anche gli angoli della circonferenza B e B' è uguali per ipotesi quindi se B e B' sono uguali per ipotesi insistendo anche D e D' sullo stesso arco a C' saranno anch'essi uguali D uguali a D' ma se questi due triangoli A, C, D e A' C' D' hanno uguali l'angolo retto evidentemente 90 gradi e poi l'angolo D che corrisponde sostanzialmente al D' vuol dire che questi due triangoli A, C, D e A' C' D' sono simili se sono simili posso prospettare questa eguaglianza no? ad esempio A, C sta ad A' C' perché i lati a questo punto sono proporzionali come A, D sta ad A' D' ma A, D e A' D' possono essere divisi per due se si dividono per due A, D diventa R R' cioè A, O il raggio della prima circonferenza A' D' diventa A' O' ossia R' il raggio della seconda circonferenza quindi A, C sta ad A' C' come R sta ad R' se non volete mettere R R' mettete A, O e A' O' non cambia nulla come appunto si voleva dimostrare nella tesi che abbiamo appena letto passiamo al numero 13 dimostrare che se un quadrato è equivalente ricordate sempre equivalente cioè la stessa area la stessa superficie ad un triangolo e qui abbiamo costruito un triangolo e un quadrato anche questa costruzione cercando di rispettare ecco rispettare proprio anche se non la si può controllare così direttamente rispettare la realtà delle figure no? per cui io prima ho costruito un triangolo ho misurato col centimetro base per l'altezza diviso 2 ho calcolato così approssimativamente con la calcolatrice la superficie e ho fatto poi la radice quadrata e mi sono trovato il lato del quadrato equivalente cioè che ha la stessa superficie ora adesso millimetro più millimetro meno ma sostanzialmente queste due figure proprio nella loro costruzione geometrica su foglio sono equivalenti vediamo proprio di prenderci questa abitudine di essere per essere precisi anche nella formulazione delle figure bene io cosa devo dimostrare dunque se un quadrato è equivalente a un triangolo il suo lato cioè il lato del quadrato è medio proporzionale fra l'altezza e la metà della base del triangolo evidentemente anche qui dobbiamo cercare di farci aiutare dalle parole dai suggerimenti che ci arrivano dall'enunciato si sta parlando di metà base si sta parlando di altezza la metà base e altezza sono sostanzialmente le misure che ci servono per trovare la superficie di un triangolo e allora superficie di un triangolo base per altezza diviso 2 ma voi capite che noi possiamo anche scrivere questa formula in questo modo metà base per altezza come potevo scrivere base per metà altezza se qui nell'enunciato invece di trovare la metà della base avessi trovato metà dell'altezza è evidente che avrei messo H fratto 2 per base cioè io devo cercare in qualche modo di riflettere nei miei calcoli suppositivi nello svolgimento di un problema di così nella stessa formula presentare i dati che mi offre o mi suggerisce l'enunciato ora se si sostituisce cosa abbiamo abbiamo che metà base è uguale ad AM perché avevamo trovato il punto medio della base e l'avevamo chiamato M quindi invece di scrivere B fratto 2 scriviamo AM poi altezza è BH il tutto area del triangolo superficie del triangolo che equivale alla superficie del quadrato ma la superficie del quadrato non è altro che lato per lato cioè DE per DE allora proviamo a questo punto a scrivere questa eguaglianza sotto forma di proporzione DE per DE quindi il prodotto del lato per se stesso del quadrato lo facciamo diventare i medi della proporzione gli altri due l'altro prodotto AM BH gli estremi e allora abbiamo che BH sta a DE come DE sta ad AM né più né meno come avevamo scritto nella tesi e come dovevamo appunto dimostrare andiamo al quattordicesimo dove c'è scritto dimostrare che le altezze relative a due lati di un triangolo qualunque stanno fra loro in rapporto inverso dei lati stessi quindi qui abbiamo un triangolo ABC abbiamo tracciato l'altezza da C relativa al lato AB e abbiamo tracciato l'altezza da B relativa al lato AC per cui noi sappiamo che C K è perpendicolare a BA e BH è perpendicolare ad AC cosa devo dimostrare? che queste altezze quindi BH e C K BH stanno fra loro in rapporto inverso dei lati stessi quindi AB H facciamo corrispondere non il lato su cui cade l'altezza ma l'altro lato AB e AC K non facciamo corrispondere il lato su cui cade l'altezza AB ma facciamo corrispondere l'altro lato AC perché ci sta dicendo di un rapporto inverso non c'è scritto stanno fra loro in un rapporto diretto ma in un rapporto inverso allora prendiamo in esame il triangolo AB BH e il triangolo AKC sono simili per il primo criterio di similitudine ma perché ma perché hanno un angolo retto e c'è questo angolo A in comune per cui tutti i triangoli sono uguali a questo punto basta solamente proporre la proporzione BH il primo cateto il cateto più lungo del primo triangolo rettangolo sta ACK ossia il cateto più lungo del secondo triangolo rettangolo come AB ossia l'ipotenusa del primo triangolo rettangolo sta ad AC che è l'ipotenusa del secondo triangolo rettangolo e noi abbiamo di nuovo dimostrato la tesi perché la tesi ci chiedeva proprio di dimostrare questa eguaglianza che noi abbiamo riportato adesso qui e a questo punto ci troviamo con l'ultimo cioè il quindicesimo dimostrare che la corda parallela a un lato di un triangolo passante per il baricentro è i due terzi del lato stesso quindi se parliamo di baricentro dobbiamo tracciare tutte le mediane quindi dobbiamo trovare il punto medio di BA sarà L il punto medio di CB sarà T il punto medio di AC sarà P qui tracciando le mediane vediamo che tutte si incontrano in un punto ben definito che si chiama baricentro da questo baricentro conduciamo la parallela alla base AC e che cosa vogliamo dimostrare vogliamo dimostrare che HK è i due terzi di AC che ci vogliono se noi dividiamo AC in tre parti ecco la somma di due di queste parti mi dà HK noi sappiamo già una cosa per teorema che le mediane si incontrano in un punto abbiamo detto che si chiama baricentro che divide la mediana in due parti tali per cui se prendiamo ad esempio la mediana BP BP BO è il doppio di OP questo lo dobbiamo ricordare poi prendiamo in esame i triangoli B O K e B P C sono simili per il primo criterio di similitudine dei triangoli perché non solo due ma addirittura tre angoli noi possiamo dimostrare che sono uguali perché hanno B in comune e poi gli altri due angoli B O K no e B K O in riferimento rispettivamente a P e a C sono uguali perché corrispondenti cioè corrispondenti delle due parallele H K e a C tagliate dalle due trasversali BP e BC quindi questo angolo in K è uguale a questo angolo in C questo angolo dove c'era O B o K è uguale all'angolo in P dunque questi due triangoli sono simili ne consegue che noi possiamo determinare una proporzione e scrivere che BP sta a BO come PC sta ad OK poi volendo possiamo moltiplicare il secondo membro per due e allora viene fuori BP sta ABO come AC sta ad HK K a questo punto però ed eccolo qui che l'abbiamo scritto di C eccolo qua noi sappiamo che il rapporto tra BP e BO BP e BO è un rapporto di 3 a 2 3 mezzi l'abbiamo detto prima il discorso della mediana BO è il doppio di OP quindi tutto BO ho bisogno di 3 OP per fare tutto BP insomma il rapporto tra BP e BO è 3 mezzi perciò anche l'altro rapporto AC e HK dovrà essere 3 a 2 come volevamo appunto dimostrare e con questo abbiamo concluso a